biscotti rustici farciti al prosciutto al cioccolato solo perché sono italiano non significa che sono italiano e inizierò dai nostri biscotti ma dice a me ma dice a me abbiamo tre quarti di grammi di burro non salato mescoliamo possiamo fare delle critiche si può parlare certo che potete devo dargli qualcosa da mangiare prima di metterli al lavoro non vorrei affamarmi non voglio farti venire sono debba mi sento tre quarti di tazza per tutti gli usi 1 3 2 1 3 2 2 3 1 questa ricetta fa paura eccomi quando ci buttiamo tanta chili di roba adesso che è cotto devo quindi per prima cosa prendo 250 grammi di 85 00 un cucchiaino di zucchero uno di sale uno di sale uno di su un cucchiaio di lievito in polvo che renderà tutto più sereno tossici ruba sopposo mucre e davvero da sogno bene mescoliamo un po il tutto adesso prendo il burro in frigo e il burro freddo è un altro ingrediente che ci farà ottenere un impasto leggero perché non c'è niente come un bel biscotto morbido baby uso il battitore perché è più facile e apro il bova non c'è niente come se francese non ci serve il piatto negro nazionale né pollo l'abbiamo inclinato utilizzo 115 grammi di burro che ho tagliato a culetti e poi lo metto qui dentro ci siamo capiti bene ora ho qui un mio attrezzo con il quale schiaccio bene il burro nella cina si sente debole se avete fatto la spesa e siete andati sul sito di me atline allora sapete che questo non è un pomodoro ma è un pepe doro e si chiama pe-perortanere-e ro il noi peper-o-a oh ed è il protagonista della nostra prima ricetta e sarà un tabulé Mh, cavulli! Vediamo gli ingredienti Peppi, cavolfiore, cavolfiori di zucca, mentuccia, erba cipolliccia, colatura d'aliccia e acido Per prima cosa prendo i peperoni E che faccio? E faccio lo stesso con l'altro Ho messo a bollire dell'acqua e dell'acido Ora che faccio? Prendo il peperone panello Taglio il mio peperone a culetti E questi filetti li metto a bollire un po' con acqua e acido Così Guardate questo Allora, per chi non lo sa, il cavolfiore si può mangiare E questo è proprio il caso di questo piatto Così Dentro il mixer Ok Ora Controlliamo i peperoni Pane e piello Sono pronti Ok Spegno Poi Uh, che merda Prendo mentuccia Sfoglio un po' di mentuccia E Prendo mentuccia Sfoglio un po' di mentuccia E L'herba ci servirà per decorare Ok Allora Trito un po' di mentuccia Prendo i miei scavoli Fiori di zucca E ho bisogno Del sesso Dai Dai Sesso Sbattiva Sbagliare Brutto porco Sì Come godo Oh my god Oh my god Sì C'è A Quass bedroom A M'k ¿C'ersi? Sì Whisper Mi 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 Su Sin Yahweh